Buongiorno l'Italia Allora oggi è il 28 aprile, io ho letto nel gazzettino che qua da noi in Veneto da ieri alle 18 si può spostarsi in bici o in macchina per raggiungere i parchi dall'interno del comune per poter fare attività fisica E quindi io approfitterei, sperando che non piova, che oggi possiamo andare nel mio bellissimo parchetto dove andavo a isolarmi per lavorare Perché lì c'è quella passeggiata a lungo l'argine, quindi in teoria là non c'è proprio nessuno e io posso far sgranchire il CP e singano Approfitterei dell'occasione per fare GPL visto che ora è mattina e per fare del gasolio perché il gasolio qua in giro in certi distributori è 1 e 2 In altri è 1 o 4 e rotti e quindi già che devo andare a fare GPL lì vicino c'è il distributore quello economico dove andavo di solito Questo che vedi a sinistra è il famoso parco acquatico Aqualandia che adesso si chiama Caribe Bay e sembra che quest'anno resterà chiuso Non so se l'hanno fatto apposta perché veramente nell'aria c'è un carico di umidità che non hai idea, cioè della serie arriverà un bel acquazzone Non ho guardato le previsioni però vedere il cielo com'è grigio Eh, guarda qua, 1,267 Dove vado io a fare GPL? 1,258 Vediamo dopo Guarda che c'è già il primo camper che si muove, vedi? Uh, 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 uh Tazzi che si vedeva nello specchietto, miseria Ok, ora ti porto nel mio distributore da barboni preferito Eccoci qua, 1,239 Perfetto, perfetto Buttiamo dentro un pochino perché secondo me dal 4 maggio ritorna tutto su, eh Eh, 1,239 Deve avere una bella villetta il distributore che lo fa 1,460, eh Uh, aspetta, guarda, è aperto il mio spacciatore di vino preferito Ah, 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 ah Eccoci qua nel mio parco preferito Verde, tranquillità Beh, tranquillità, c'è gente Uh, aio, ste casa Vara gente su per l'argine Non siete mai andati su per l'argine Andavo solo io su per l'argine Dai, ste casa Eh, cioè, vuoi mettere la vista? Eh, a me piace, a me piace, a me piace Sono circondato dal verde Dall'altra parte del rubinetto che devo ancora provare Devo ancora provare se ci arrivo col mio nuovo impianto idrico Ho una gomma da 15-20 metri L'altra da 33, voglio dire Oh, sarà antiestetico Eh, ma io lo apprezzo un casino Anche perché ti ripeto, questa è la mia casetta La mia tiny house che tanto sognavo E quindi, niente, sono indispensabili le comodità Diciamo che, sì Non so se l'ho mai detto Ma come camper Non è decisamente il massimo Ma come casetta, ragazzo Porca puttana Mi mancano solo i piedini E ti sembra di essere niente Una casa vera e propria? Ah, l'eventuale aumento di qualità del vlog O delle puntine in generale Perché sto iniziando a usare E imparare L'Adobe Premiere Pro, no? Eh, avverrà graduatamente Questo per non creare stress E quindi rovinare le riprese E poi, comunque, per lasciare Decorrere naturalmente le cose Vero CP? Che poi qua Sì, sbadiglia, sbadiglia Eh, madonna, ti annoiano Sembra i miei discorsi Eh? E quando mi parli tu Che mi dici Pape, pape Voglio le pape Eh? Che bello il pulmino E sto cagnolino Esatto Questo qui è il parco Con l'argine Dove erano stati provati gli obiettivi Esattamente Vara che bello È molto bello A fare anche in bici questo qua Ti porta praticamente Al faro di cavallino Praticamente Eh, che riprese vuoi fare Con la GoPro qua? Eh? Cioè, la GoPro l'avevo presa Quella volta Per le situazioni di emergenza Ossia Per avercela sempre in tasca Nel caso in cui Succedesse qualcosa O Che ne so io Avessi qualcosa in mente Da dire, no? Però, no Da usare come fotocamera principale No È un po' demotivante Cioè Ha un'ottima risoluzione Qualità Tutto quello che vuoi Però Come action cam, no? Hai capito? Cioè, non per fare I vlog Anche adesso Non so Ah Un messaggio rivolto Ai tu che mi seguono Che vogliono anche loro Fare video Che sia per fare un vlog O che sia per fare I video Delle vacanze I video Privati Diciamo ecco Consiglio vivamente A meno che uno Non abbia grandi aspettative Di fare chissà quali effetti Eccetera Fin da subito Di lasciare stare il filmore Tutti quei programmini Corel Eccetera Eccetera Passare direttamente Ad Adobe Premiere Perché tanto Perché la difficoltà Per fare i tagli E inserire la musica Cioè la stessa Te lo impari In dieci minuti Venti Guardandoti dei tutorial Su internet Certo dopo Se vuoi crearti Delle animazioni Personalizzate Transizioni Eccetera Allora lì Ok sì È diverso È più complesso Perché ti offre Un'infinità Di altri strumenti Altre opzioni Quindi tu non sapresti Dove andare a cliccare Però ragazzo mio Secondo me Come ho detto anche a Fabio Ne parlavamo prima Al telefono Se hai intenzione Di continuare a far video Qualsiasi tipo di video Passa direttamente A Premiere Perché ricapitolando Per i tagli base Le cose base La difficoltà è quella Hai capito Però Se per caso Un giorno Avrai intenzione Di continuare Che ti appassionerà A fare video Allora lì Con Premiere Avrai infinite Più possibilità E non preoccuparti Se è difficile Perché è vero Che è difficile Difficile nel senso Che Ci sono tante funzioni Che tu così Dal nulla Non potresti Capire Interpretare E quindi Troverai un sacco Di guide Videoguide Su internet Gratuite Che ti spiegano Come fare Ossia Sia i corsi base I corsi avanzati Ma poi anche Tutte I piccoli tutorial Come fare Per rendere Sta parte Trasparente Inserire Questo effetto Con questa animazione Eccetera Eccetera Hai capito? Guarda che bello Le hanno a tre in volo Le avrei prese Con L'obiettivo La Sony Guarda I tempi Si fanno Molto 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 Lunghi Perché A parte Il reso Per carità Che sono soldini Niente Ancora Tutto Fermo E Per l'acquisto Della 6600 Usata Sull'Amazon Warehouse Ancora Non si sa niente E è stimata Per il 28 maggio Questo perché Avevo contattato Il supporto di Amazon Mi avevano detto Che non risultava Disponibile Mentre quando L'avevo acquistata Io ovviamente Era disponibile Hai capito? E quindi Non so Stavano aspettando Che gli entrasse Ma se è un usato Come fa a entrarti? Hai capito? Cioè non è una cosa nuova Che ti arriva il fornitore Te la consegna E quindi Io ho anche dubbi Adesso è anche Salita di prezzo Però Io ho detto Gran calma Io ho scritto nell'e-mail Guarda che io L'ho acquistata A quel prezzo lì Voglio dire Cioè non è che adesso Che è salita Di 100 euro Me la devo pagare 100 euro in più Porca miseria Amore Quante belle pissatine Ti fai qua Tante belle pissatine Sì E ognuno Ha i suoi hobby Cioè io Quello dei video Della fotografia Ha il CP Le pissatine La Nature Il giardino di Singano Sì È uno di tanti Giardini E come tu ben sai È uno di quelli Che visito più spesso Proprio perché C'è Lo ripeto All'infinito Sta tranquillità Per lavorare E la passeggiata Lungo l'argine Attaccata Non di che Esatto Il rubinetto Che bisogna provare Però adesso Tipo il 60% Di acqua Quindi è inutile Dai Quando lo finirò Proviamo a caricare Anche perché Anche perché poi Giustamente Dobbiamo vedere Man mano che andiamo avanti Con i carichi Come funzionano I filtri Per pulire l'acqua Quelli che ho attaccato Alla gomma Quindi ogni volta Che farò Il pieno Rifornimento dell'acqua Farò sempre il video E vedremo man mano Come si riempirà Di sporcizia Questi filtri Allora Tu hai visto Che un pieno Era già stato fatto Erano stati riempiti Due serbatoi Quella volta Ok Quindi metti Un 300 litri Ovviamente Insomma con un pieno Cosa puoi vedere Adesso sommeremo Tutti gli altri pieni E vedremo cosa succede Ah che bello Ballo 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 Ragazzo Ballo 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 Sei anche te Un campo Un'argine Dietro casa Voglio farti la passeggiata Cioè È bellissimo È rilassante Soprattutto Magari Chi ha Un po' Una certa età Si inizia a avere Dei problemi Di schiena Di nervi Di cervicali Eccetera No Questi nervi Della schiena In realtà Sembra di no Ma ti scombussolano Un pochino anche L'esistenza Ossia ti rendono Un po' più teso Più stressato Ma teso È la parola giusta Quindi Facendo Una passeggiatina Soprattutto Quando sei Nella natura Per questo io dico Che è più salutare Fare questi tipi Di passeggiate Ti giri sempre Perché c'è il fiore C'è la pianta C'è L'anatra Eccetera Eccetera E quindi fai Questi movimenti Hai capito Dopo Tutto Tutto l'organismo Ne risente Insomma Positivamente Ben si intende Senti Senti The sound of osei Ciao Pulmin Guarda Pulmin Mamma mia Quanto brutto È Pulmin Porca miseria Allora No beh Calma Parliamoci A parte che adesso Siamo distanti Non puoi neanche capire Ma allora Dalla parte destra E dietro A me piace un casino Pulmin È strafigo Veramente strafigo Mi sembra una specie di school bus Veramente strafigo Ma C'è la parte davanti È oscena Tagliata così È proprio bruttissima Non mi piace Neanche un po' Se vuoi la verità Se vuoi una bugia Madonna che bello Vero CP CP E te sai Quanti odori Eh sì Perché sono passati Tanti cagnolini Oggi Ma sì E c'è anche Sta bellissima Aria cani E c'è dimmi te Sei mai visto Un'area cani Così figa Guarda Con il laghetto In mezzo Le panchine Guarda che è grande Eh I cani possono correre Con il discorso Del laghetto Possono fare anche Il giro Tipo pista Tipo autodromo No Molto molto grande Molto bello Fuori C'è addirittura Il rubinetto Con la ciotola Per i cani No no Guarda Iesolo Su tante cose Voto 10 L'unico problema Purtroppo Resta sempre La sicurezza E' sempre peggio Questo perché Giustamente Le forze dell'ordine Qua in Italia Hanno le mani legate E quindi I delinquenti Se la ridono Basta vedere Quello Quello che era successo Con gli zingali Che giravano Entravano a vederne le case Quindi Noi Ci prendiamo multe Da 500 euro Se andiamo in giro Durante il periodo Di quarantena E loro tranquilli Passeggiano Entrano nelle case A vedere cosa si rubano Passano con le macchine Targate straniere A controllare Cioè Hai capito E quindi Purtroppo Non posso godermi bene Tutta questa cosa Perché ad esempio Io lascerai il camper qua E andrei dall'Alessia Con il lungo bordo elettrico Per dire Cioè A proposito di zingaraggio Andiamo a vedere Se il rubinetto di là E attivo Funziona Beh secondo me si Al massimo Lo chiudono Proprio in pieno In pieno inverno Ma Ci sono tanti merli Oggi Quello là Dietro all'albero Dietro al quarto albero Merlo Aio Piccione L'immancabile piccione È vero Quello è un animale Che trovi in tutto il mondo Ho visto ieri sera Un bellissimo documentario Sugli animali Giusto per sbavare Un po' le riprese Che facevano No E me non si mangia Facevano vedere Questi piccioni Dall'India Al Tibet In qualsiasi parte del mondo Sono presenti Ma non è quella La cosa Che mi è rimasta Impressa A parte le riprese Ovviamente Che c'erano Quelle cose spettacolari Per carità Girate con macchine Da decine 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 Di migliaia di euro Però guardavo Cioè mi è un'automatico Questo paragone Tipo tra Tra il Veneto Che quando Arrivano gli animali Ossia la stagione Venatoria Alla tutti A sparargli No Hai capito E mentre In tanti posti Cos'era In Cina Tibet E in India Le popolazioni Accolgono Gli animali Migratori Dandogli Del cibo Difatti spiegavano Che proprio Questi uccelli Migratori Hanno cambiato Anche la loro Rotta di migrazione Proprio per passare In questi paesini Dove Gli esseri umani Gli davano il benvenuto Col cibo Insomma Hai capito Quindi Vedi a volte Nella serie Giusto Sbagliato Il bello Il brutto Io che guardo Tutto Guardo il Veneto E la cazza E guardo L'indiano O il tibetano Che fa l'accoglienza Che crea Questo rituale Magico Tra l'essere umano E la natura E dico Cazzo Guardandoli tutti Secondo me Uh va che bello E beh Sino non lo vedrai mai Con la gopro Sopra il cartello Come cavolo si chiamano Quelli là Con le ali blu Eccolo là Madonna Perché non mi ricordo il nome Vabbè Uccelli con le ali blu È sufficiente? Ok Però Scusa Se tu apri Tutto questo Viene giù da là Se lo chiudi Tutto di qua Continua a vener giù Comunque da là Solo che qui c'è la ghiera E qui no Forse questo si può togliere Utilizzare l'altro Sì dai Meno che non gli abbiano messo Silicone o robe strane Oh Dopo una vita Che bello Che figata E avere le finestre così grande Uh Non ero abituato Verrà che bella vista Tutto aperto Passa molto più aria Che cosca rosso Ce l'avevo a metà e metà No hai capito Vero cp? Sì Sottiliò il tuo tavolo Era solo per aprire Quindi Modalità Apertura Balconi di casa Balcone principale Balcone del lato guidatore I due balconi Del lato passeggero A porta Balcone lì Quasi quasi anche Il balcone del soffitto Sì di che roba Emi Sì di carieggiati Madonna Poi qui c'era l'oblò Adesso c'è il clima Qui sopra ho già aperto Anche se si aprono poco Però vabbè Insomma meglio di niente E aprirei anche quello Del divanetto Sotto qua Tac Tac Voilà Anzi Visto che Sono comunque fermo Apriamo un po' anche Il bagno Che arieggia anche il bagno Ciao c'aino Ciao c места Anzi Coi C'è un po' anche Alla Ca Che E Ch Ciao c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.